Siamo a Look, abbiamo appena intervistato il cast di The Witcher 2, la serie Netflix che arriva dal 17 dicembre in streaming. A show come questo, so many shows do have snippets di musica, e io sono un personale musicale, musica è una grande parte della mia vita come musica, quindi vedere il mondo rispondendo in un modo così positivo, ma non voglio mai sapere ancora. Lo che abbiamo visto so far in season 2 è più profondo in un certo modo, c'è un line che mi ha fatto in i primi due episodi, che è come, no place è safe, abbiamo bisogno di prendere l'occhezza. In vostra opinione, in questo senso, per il tempo che stiamo vivendo, che stiamo facendo in season 1, come questo aspecto di questo senso, che stiamo facendo con noi? Yeah, there is something quite prophetic about some of Jaskier's lines and songs in season 1, there is a sense that the world is starting to change into a darker, stranger, grimmer place. There is distrust, a sort of misinformation that is whirling around, and xenophobia that is something that I know that the character, being a consummate empath, would be affected by. And that was something that Lauren and I really wanted to explore in season 2, and try and discover exactly what it would be that Jaskier would do in these certain situations, when confronted with a world that is no longer as welcoming as it once was. So that was my favourite aspect of filming season 2, was allowing him to protagonise a little bit and enjoy his own journey, when not immediately tethered to his best friend or a new family. So that was my favourite aspect of filming season 2, is that Jaskier would be a bit of 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 a bit Grazie a tutti.